Terza fase Camminata del morso Trasca con i pesi Legamenti precipiti e sumo sport 45 secondi di lavoro 15 secondi di pauta 3 giri Quindi sono 12 minuti totali di esercizi Fattiamo i pesi Camminata del morso Quattro passettini da manci e quattro anni dietro Pronto Partenza Via Bravo Bravo E' un corso buono 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 15 secondi di lavoro 20 secondi di lavoro Daqui è una corrente di 5 Bravo Daqui siamo già 30 secondi 15 secondi di lavoro Vai riportare 35 6 5 4 3 2 1 15 secondi di lavoro Preparatevi i pesi 7 6 5 4 3 2 1 Traster Forza Forza Mezzo Sport E disperdinando Guardate l'agilità E il peso che sto usando 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 5 4 5 4 5 3 2 1 Riposo E ci prepariamo sul cappettino per i piegamenti per il precipice Manine strette E i gomiti molto strette Ginocchio appoggiate Così più facile 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 2 1 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 12 12 12 13 13 12 15 Quattro, tre, due, uno, bravissimi, riposare, quattro secondi, riparati i miei pesi in quattro, velo traspare la parte, mancano cinque secondi, quattro, tre, due, uno, traspare la parte. Siamo già lì a secondi, quattro, paura, il secondo, mi chiedo che lo sieni, venti secondi, siamo a trenta secondi. 15 dai 10 secondi a fine 5 4 3 2 1 respirare respirare se ci vediamo per terra dobbiamo fare i regamenti principi brava, 7 secondi 4 3 2 1 si ricomincia il regamento naturalmente chi vuole fare i completi gambe tese e le faccio vedere ecco, non lo stiamo facendo bene basta l'ha fatto uno basta l'esempio se lo fa l'esempio è quello che fa dai dai tieni ricordaci vieni 8 secondi a fine dai manca poco saluta da 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 respirare 3 10 secondi sullo spot ancora 5 secondi 3 2 1 vai con il suo spot anche qua anche qua chi vuole pesa in mano è una cosa difficile 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 respirare poi si fa il terzo giro si ricomincia con la camminata di dorso tra 9 secondi ripiazzate le dente se avete bisogno 4 3 2 1 vai con la camminata 4 passi in avanti 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 5 8 8 8 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 4, 3, 2, 1, resta. Restira, resta, resta, Andra. Trasette, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vai con Trastero. C'è un po' c'è l'arrivo in mezzo. No, per il minuto di me no. Magari che qua stanno le dalle, magari hanno visto le musiche. E 20 secondi. Andate, vi manca 25. Dai che anche questo poi non lo fate più. 30 secondi in destra, vi manca 15. Forza, forza. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respirare. Non lo fate più trasta. Piegamenti per il cibiter. Ed è il ben ultimo, manca i due minuti che ho finito anche questa parte. 4, 3, 2, 1, vai con i piegamenti per il cibiter. 5, 4, 3, 2, 1, vai con i piegamenti per il cibiter. Legge le mani 14. Ancora 10 secondi. 8, 5, 4, 3, 2, 1, rifiattare. Rifiattare, rifiattare, anche un secondo più. Il suo sport abbiamo finito. Legge l'ultima fatica. Bravi. 6 secondi. 4, 3, 2, 1, rifiattare. E si fa. Ultima fatica. Dai. 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 10 secondi sono già andati. 15 secondi. 20 secondi. Le mancano 20 adesso alla fine. Dai. 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Finito il circuito anche per oggi. Buona serata e buon weekend a tutti. Ciao. 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 Ciao.